Musica Amici del CUM bentornati qui dalla Forese Bridge in compagnia di Davide Miani del Cambuse FC e del solito partizante grado ci attende una sfida senza dubbio ricchissima di gol e di azioni da una parte dall'altra fra due compagini che hanno già dimostrato nella primissima giornata di campionato di valere tantissimo e di poter dire la propria per il titolo del trofeo degli Atenei mettetevi dunque comodi, siamo pronti ad assistere a questo spettacolo in campo e fuori buon calcio a tutti Si comincia con il primo pallone toccato dal Cambuse in maglia granata che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi Calcio di punizione, palla sul secondo palo si impegna Mikael, riesce a deviarla in calcio d'angolo, primo squillo in favore della Cambuse FC Preti va al rilancio, subito verso Brignoli che controlla, benissimo va via con una magia Brignoli, incredibile la parata di Mikael Fiano squillo anche per il partizan, la risposta di Fiano Occhio a Leopoldo, Orlando che va via sulla fascia e buca Mikael alla seconda occasione buona il partizan trova il gol del vantaggio 1-0 dopo 5 minuti di gioco Allora Galizia, largo ancora Melogli Galizia vada solo, cerca Richini lo trova ancora pallone di ritorno per Galizia poi arriva Cohen che prova a sparecchiare il pallone però è buono, sarà rimesso a laterale Melogli supera la metà campo, prova ad andare da solo ancora Melogli, può calciare, non lo fa, allarga sulla sinistra dove la chiama Galizia calcia lui con il destro, verso terra Preti e poi Filippo Orlando fa buona guardia lontana ancora davanti a Cambusa poi Orlando si difende anche con l'ausilio della presenza dell'arbitro serie di rimpalli, ancora Galizia, prova ad andare bellissima giocata, allarga sulla destra non arriva il tap-in di Cortellini visibilmente in ritardo ma che giocata ancora di Galizia ancora Galizia versus Bonetti cercato e trovato Davide Fiano centralmente, carica al sinistro Fiano a respinta di Filippo Orlando in calcio d'angolo se la prende poi con i suoi compagni che hanno lasciato tirare il numero 7 di Cambusa riceve Melogli centralmente può anche calciare Melogli non lo fa prova ad andare in porta col pallone Melogli Melogli è uno gol di Melogli che scarta tutti e con uno scavetto leggerissimo super a Preti uno a uno sul quale si chiude il primo tempo regolamentare Comincia dunque con il secondo tempo di Partizan de Grado Cambusa 2.0 match equilibratissimo nei primissimi 20 minuti aspettiamoci però ancora tanto spettacolo da entrambe le parti adesso Brigno li allarga verso Leopoldo Orlando che calcia! pronti via 2-1 Partizan che dimostra di avere ancora tante cartucce da sprecare e si porta di nuovo in vantaggio Brigno li recupera un pallone ancora Brigno li prova a saltare di forza due avversari Brigno li calcia palla allontanata poi c'è spazio per il mancino di Riva risponde Mikael Fiano in bagger e rallontana il pericolo ancora però in avanti il Partizan con Riva che allarga a sua sinistra centralmente solo Brigno e il pallone invece per Riva doppia paratona di Mikael Fiano che dice di no due volte arriva e Brigno li calcio di punizione occhio alla rincorsa di Galizia palla sul secondo palo deviata poi rimane lì Cortellini la mette dentro Elio Cortellini il gol del 2-2 della Cambusa che ritrova la parità tutto da rifare dunque occhio la traitoria velenosa dalla destra di Mikael Fiano parte il tiro da sotterra palla deviata il gol del Partizan che torna in vantaggio 3-2 ancora strada in salita per la Cambusa 2-0 che trova l'ennesimo gol dello svantaggio ed è costretta ancora ad inseguire punizione a 2 in favore della Cambusa parte Gallizia sul fondo va tutta la rimessa laterale Melogli danza sul pallone ancora lui con l'esterno cerchi a Gallizia controlla numero 10 può calciare col mancino apparecchia invece ancora per Melogli il tapino di Coen sulla linea di porta ma il merito è anche di Gallizia e di Melogli ancora ristabilita la parità 3-3 tutto da rifare occhio al pallone che buono per Coen ancora 4-3 Coen 4-3 Coen ancora lui la rete del vantaggio è a Cambusa incredibile la Forese Bridge tutto ribaltato per i Granata ancora Gallizia doppio passo va via allarga adesso sulla destra è buono ancora per Melogli che la mette dentro Gallizia non controlla autogol di Filippo Orlando è un annesimo gol della Cambusa 5-3 partita virtualmente chiusa per i Granata Correggia la tiene in campo cambia tutto intelligentemente bellissima palla questa di Correggia si fa vedere Melogli centralmente il pallone per lui ancora Melogli spalla da porta prova ad andare via due avversari va via come vuole ancora dentro per Correggia palla alta sulla traversa come gioca Melogli calcio di punizione fischia il direttore di gara parte il destro di Melogli palla sul fondo e arriva il triplice fischio del direttore di gara finisce qui un match davvero straordinario di grandissima intensità e qualità fra parte Zandegrado e Cambusa vince Cambusa 5-3 seconda vittoria consecutiva di Granata